Ehi, che cosa succede qui? Non ditevi che avete paura dei vostri marini? Se ne incontrassi uno avrebbe i secondi contati. Tu non avere paura dell'acqua, io ti stavo sempre vicino. Sì, va bene. Ma perché l'ultima volta non riuscivo a tornare a lì? Beh, perché rifinitami una corrente di risulti. Ma da dove andiamo? Beh, ecco, questa corrente si forma quando ci sono delle onde molto grosse. L'acqua che viene sminta sulla spiaggia deve tornare a mare. E così facendo, l'arrivo di un'altra onda forma un'ottice. È tanto forte da trasmettere questo moto ad una buona venta di mare e in quel tratto si forma la corrente di risulti. Non devi preoccuparti di questo, Tiana, sai perché? Perché oggi non ci sono correnti di risulti. Perciò puoi stare tranquillo. Vai e diventi. Johnny, mi terrai del mani d'acqua. Johnny. Johnny. Cosa? Oh, sì, certo che lo farò, ma vedi, prima devo parlare con una persona e poi tornerò da te. E nel frattempo ti terrà per mano a Eppi. Va bene, Johnny. Tornò subito. Bene. E quello chi è? È suo padre.